Ogni giorno. Senta, lei ha avuto modo di vedere la sua ex moglie Nina Moric qui a Belve? Sì, purtroppo. Che effetto le ha fatto? Una pena incredibile. Lei ha detto, forse se avesse trovato un uomo migliore, ora non sarebbe così. Sono l'uomo più sbagliato che potesse trovare. Se Nina sta così male oggi, ed è arrivata a quello che è oggi, è colpa mia. Sì, si riconosce una responsabilità totale? È colpa mia.